Good morning, welcome to da zero, un corso che va da zero, from the top. Ora, un paio di cose che dovete sapere, prima di tutto non avere mai paura di sbagliare, perché sono ironicamente gli errori e dagli errori che si impara molto, è molto importante anche la puntualità perché è sempre un gesto di rispetto per gli altri compagni di classe, quindi non venite in ritardo, insomma. Poi, noi... Eccomi, buongiorno, scusate, c'era un traffico, guarda, oi, sei quello della tv. L'ho riconosciuto. Dai, cominciamo, cos'è? Allora, ti spiego il problema. Io devo fare... Sono un grande artista, solo in Italia non sono valorizzato come cantautore, né come grande cantante, capisci? Per cui io devo andare all'estero, sono qua per imparare l'inglese. Sei tu Maki? No. Chi è? Ok, scusa, dicevi? Io devo imparare l'inglese, capito? Ok, però come vede adesso ci sono tutti i posti presi, quindi... Ah, vabbè, niente, come se avesse adesso niente, scusi. Ok, ciao. Ora, cominciamo con degli appunti della pronuncia. La preparazione... Trovato il posto, hai visto, eh? Perché il proverbio lo dice, dove si studia in otto, si studia anche in nove, è italiano, tu non lo sai, però è così. Vai, stupiscimi! Ma lo sapete questo proverbio? Ah, lo sapete? Alza la mano a chi vuole che rimani lui. Ok, solo non disturbi.